Oh! 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 Ragazzi! Quello lì! Quello lì è un guerriero solar! Io sono Palladium, campione Solark, guerriero dell'ordine e dell'equilibrio. Tu e quei ladroncoli dei tuoi amici avete rubato i frammenti del cuore del Titano. Riconsegnateli immediatamente! Guardati intorno, guardiano di Gorm. È evidente che non sei in grado di gestire tutto questo potere. Consegnami immediatamente i frammenti di magma. Lord, dì al tuo guardiano di consegnarmi i frammenti prima che il santuario ci crolli addosso. Riff! Consegnarli? Dovrai obbligarmi! Non mi lasci altra scelta. Affondo Solare! Arrenditi! Lama abbagliante! Arrenditi! 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 Il potere del cuore del titano rappresenta un pericolo per chiunque lo custodisca, ma vedo un grande potere in te. Ora è tempo di ricongiungere i quattro frammenti. Già! Conterrò il potere dei frammenti di magma, così potrete riportarli indietro al Grande Tempio. Trovate gli altri frammenti guardiani, ma fate attenzione al loro potere. No, se n'è andato. Avevo tantissime domande. Signor Palladium, è lì! Pronto! Dormiti!